Le Marche resistono e restano in zona arancione ancora per un'altra settimana. Ad annunciarlo è il presidente della regione, Francesco Acquaroli. La decisione arriva a seguito di un'analisi dell'andamento epidemiologico fatta dagli esperti. Nonostante si sia parlato di trend da zona gialla, si è comunque deciso di confermare l'arancione per la regione marchigiana, chiudendo così anche lo spiraglio di luce su eventuali riaperture anticipate aperto nella conferenza stampa tenuta ieri dal Premier Draghi. Il fatto che il decreto del Governo escluda la zona gialla nel mese di aprile significa che siamo nella fascia migliore, ha affermato il presidente Acquaroli. Un appello alla massima attenzione perché oggi noi abbiamo i numeri praticamente esclusi i ricoveri ospedalieri, le terapie intensive per essere gialli perché il nostro RT sta scendendo e sta scendendo anche l'incidenza dei numeri dei casi positivi su 100.000. Però la verità è che oggi più di arancioni non possiamo essere per decreto. Dobbiamo quindi fare la massima attenzione, ha poi continuato Acquaroli, affinché la curva non vada a risalire proprio nel mese o nel periodo in cui il Governo dovesse decidere di darci delle opportunità. Le strategie per far ripartire l'Italia dipendono molto dalla capacità singola nostra come istituzioni di dare le risposte adeguate, ma anche singole di capire il momento difficile che stiamo attraversando. Quindi bisogna passare per una fase che è quella della vaccinazione, del rispetto delle regole di mitigazione che ci devono portare al mese di maggio nella migliore maniera possibile e soprattutto nella capacità di saper rilanciare subito una stagione estiva che sarà determinante e speriamo anche l'ultima stagione, questa che stiamo vivendo, fortemente penalizzata.